Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 33 di Italy Made Easy Podcast. Come sempre questo è il podcast, e adesso anche il video podcast, in cui noi ti parliamo... noi, io... ti parlo in italiano relativamente lento, ma italiano naturale, senza leggere, improvvisando... ti parlo di argomenti interessanti e spero di aiutarti con le tue capacità di ascolto e comprensione della mia bellissima lingua. Oggi ti vorrei parlare di una cosa che mi sta molto a cuore. Che cos'è una cosa che mi sta a cuore? Beh, sei te, lo studente, siete voi studenti di Italy Made Easy e allora ho pensato che dopo anni e anni di amicizia sia arrivato il momento di raccontarti la storia di Italy Made Easy. Come è nato questo progetto? Perché è nato e tutte queste cose carine, sfiziose... sfiziose... sfizioso è un aggettivo che viene dalla zona di Napoli, ma che usiamo adesso nell'italiano standard... io non sono napoletano... sfizioso significa carino, interessante, curioso... quindi, ripeto, parliamo di come è nato Italy Made Easy. Sei pronto? Allora... correva l'anno 2012... sì, tantissimi anni fa. Io ero già insegnante di italiano all'università, qui in Australia, e oltre a insegnare all'università, insegnavo piccoli gruppi di studenti privatamente alla biblioteca del paese dove abitavo. I corsi che offrivo privatamente erano sempre per principianti, persone che avevano l'interesse di andare in Italia in vacanza e venivano da me per imparare le basi e prepararsi al viaggio. Quindi ogni tre mesi offrivo un nuovo blocco, un nuovo gruppo per principianti e cominciavo sempre dall'inizio. E la cosa più importante che io insegno sempre come prima cosa è la pronuncia dell'italiano. Uno, perché è relativamente facile imparare a pronunciare l'italiano e due, è il momento giusto cominciare da subito a capire come fare i suoni di questa lingua e come ascoltarli, come sentirli. Sei d'accordo, no? Quindi, cominciando sempre con la pronuncia, mi trovavo praticamente sempre a spiegare le stesse cose ripetutamente agli studenti dell'università, ai gruppi privati e anche agli studenti privati che vedevo individualmente. Insomma, era un po' ripetitivo, soprattutto quando le nozioni della pronuncia della lingua italiana sono relativamente poche e allora ho avuto un'idea geniale. Ho deciso di registrare una specie di workshop dove io insegnavo la pronuncia dell'italiano. Quindi ho preso una lavagna di quelle piccole, l'ho messa dietro e davanti alla telecamera, con molto imbarazzo, molta vergogna e tanta insicurezza, ho parlato e ho spiegato quello che di solito spiegavo faccia a faccia agli studenti. Perché l'ho fatto? L'ho fatto per poter poi dire ai miei studenti, ok, il corso comincia fra due settimane, prima di venire al corso guarda questi video che ho messo su YouTube. Erano sei video, mi ricordo ancora. E così ho fatto. Quando avevo studenti nuovi, io dicevo guarda questi video per la pronuncia così quando arrivi tu risparmi tempo e denaro perché non devo spiegarti di nuovo tutte le stesse cose e per te è più pratico perché impari a casa. E questo è l'inizio praticamente quasi di Italy Made Easy. Perché dopo due anni siamo ormai al 2014, per casualità sono andato su YouTube, sul mio canale che non era un canale, non aveva un nome, era il mio canale personale di YouTube, ho visto che questi video di pronuncia avevano più di centomila visualizzazioni. Una cosa che nel mondo di YouTube, anche oggi, non è facile arrivare ad avere così tante visualizzazioni. E allora ho pensato... oh, ma allora c'è interesse nel mondo ad imparare la mia lingua? Sì, so che c'è interesse, ma non sapevo che ci fosse così tanto interesse online per imparare l'italiano. E allora, visto che a me piace avere progetti grandi, ho pensato... creo un corso di italiano, di cosa, di pronuncia. E mi sono messo lì con due telecamere, sempre tanta insicurezza, una lavagna più grande, e ho creato il mio primo corso che si chiamava, e si chiama ancora, Speak Italian like in italiano. Ho creato il corso e l'ho messo su una piattaforma che si chiama Udemy. Questo corso era lì su Udemy e piano piano, ogni mese, sempre più studenti si iscrivevano. E allora il primo mese ho guardato... uh, ho venduto 10 corsi, ho venduto 30 corsi, ho venduto 50 corsi... e la cosa cresceva! C'era un interesse incredibile nell'imparare l'italiano con me, suppongo. Siamo ancora nel 2014. Allora nel 2015, credo, non fare affidamento alle mie date perché la mia memoria non è il massimo. Quindi, forse un anno dopo aver creato questo primo corso di pronuncia, ho pensato di creare un corso per turisti, persone che pensano di andare in Italia e hanno bisogno di prepararsi. Ho creato questo corso più elaborato, molto più complesso, molto più grande, con più contenuti, i PDF, la versione audio... non c'erano esercizi, non credo... e ho imparato anche a creare un sito perché questo corso, che si chiama... si chiama ancora Speak Italian From Day One... che è titolo originale... questo corso non l'ho messo su Udemy, ho creato il mio sito per offrirlo direttamente agli studenti. Il corso aveva cinque moduli e io l'ho offerto live, dal vivo. Avevo un gruppo di studenti, credo una ventina, all'inizio 20 studenti, e io preparavo i video per loro, li mettevo sul sito, loro imparavano quindi i video e dopo facevamo due chiamate live. Una era di pratica, dove parlavamo tutti insieme, e l'altra era di domande e risposte, Q&A. Quel corso, Speak Italian From Day One, ha avuto un successo enorme ma così grande che ho deciso di fare il prossimo passo. ed è lì che è nato, e forse tu mi conosci da questo periodo, è nato il progetto di From Zero to Italian. Conosci From Zero to Italian? È la cosa più bella che sia mai successa agli studenti di italiano. Lo dico con umiltà ma anche con orgoglio perché ho creato questo programma che ho lanciato, questo mi sembra febbraio 2017, più o meno. E l'idea di From Zero to Italian è di offrire per la prima volta un corso serio di valore accademico per persone veramente decise ad imparare l'italiano e arrivare a livelli conversazionali di fluency ai quali probabilmente anche tu ambisci. È per questo che ascolti materiali come questo podcast. Ma di solito arrivare al punto di ascoltare contenuti in italiano e capirli e comunicare liberamente con gli italiani non è una cosa facile. Lo so, non è facile. Lo so bene io perché anch'io ho imparato molte lingue come tu stai imparando l'italiano. Ho imparato l'inglese, per esempio. Il programma, che si chiama From Zero to Italian, prevede otto livelli. Sono corsi importanti con materiali di vario tipo, lezioni grammaticali certamente, vocabolario, quiz interattivi, ma soprattutto molta pratica, molte opportunità di imparare a capire e a parlare l'italiano. Non ti voglio parlare troppo di From Zero to Italian, ma ti voglio spiegare perché è stato importante per te, se sei iscritto a uno dei miei corsi, e per me come fondatore di Italy Made Easy. È stato proprio From Zero to Italian a decretare il successo di quello che facciamo noi di Italy Made Easy per studenti come voi. Ci sono stati così tanti studenti, migliaia di studenti che hanno cominciato con Beginner Italian Level One, il primo livello per principianti, hanno poi continuato al livello due, sono passati al livello intermedio, hanno fatto il livello intermedio uno... insomma, io ho adesso centinaia di studenti che hanno veramente imparato a capire e a comunicare... a capire l'italiano e a comunicare in italiano con magari... ovviamente non perfettamente, ma hanno la capacità di comunicare, hanno il coraggio di parlare e interagire, che è la cosa più bella che spero di regalare anche a te. È stato in concomitanza... che parola difficile... in concomitanza vuol dire simultaneamente, allo stesso tempo. È stato in concomitanza con From Zero to Italian che è nato o è rinato, è veramente, il canale qui di Italy Made Easy. Dico qui perché sto parlando anche in telecamera e questo video è su YouTube, ma se tu sei su un podcast non ti preoccupare... quindi in concomitanza con il successo di From Zero to Italian è cresciuto, è nato, è esploso il canale di Italy Made Easy. Ti ricordi la serie Ask Manu Italiano? Un successone. In quell'anno, credo il 2017, il nostro canale di Italy Made Easy è passato da 10.000 iscritti a 50.000 iscritti. Tutto grazie a Ask Manu Italiano e a voi che lo guardavate. E gli anni sono passati, ora siamo qui insieme. Io ho un blog dove ci sono tanti contenuti gratuiti, ho questo podcast. Il canale di Italy Made Easy ha 100.000 iscritti. Grazie. Italy Made Easy Academy ha 12.000 studenti. Non ci credo, non ci credo. Insomma, una storia che va raccontata e sono contento di avertela raccontata. Sono contento che tu faccia parte di questa storia o abbia fatto parte di questa storia e spero di continuare insieme al team di Italy Made Easy ad aiutarti con il tuo italiano. Ho menzionato il team di Italy Made Easy perché presto in un podcast ti parlerò del mio team, così conoscerai le persone che sono dietro le quinte, sono dietro il successo di Italy Made Easy, ma sono altrettanto importanti. Prima di salutarci vorrei farti una domanda. Tu sei uno studente di Italy Made Easy Academy? Fammi sapere perché è lì che succede la vera magia. Un bacione, ciao! Ciao!